Che cosa sente? E che cercheremo di portare avanti con il massimo della serietà e della competenza, nei limiti naturalmente di quelle che sono le ristrettezze del bilancio che purtroppo hanno visto importanti restrizioni nel campo della cultura. Dunque, continuità, ma forse un perfezionarsi, un migliorare la comunicazione per sviluppare questa cultura che soprattutto nel loro, dove viene lei, è un patrimonio che è ancora valido da riconsiderare. Parlo del patrimonio del Polesine, dell'ambiente, di quello che può offrire. Assolutamente, le potenzialità sono enormi, noi dovremmo fare il meglio possibile per poterle sviluppare con le risorse disponibili. Sottolineo sempre questo concetto. Grazie. 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 Grazie.